Allora, buonasera, bentornati. Oggi vedremo appunto la seconda parte del discorso che abbiamo cominciato la settimana scorsa. Nello scorso incontro abbiamo cercato di delineare il modo in cui Atene gestiva l'organizzazione delle sue principali feste drammatiche, con una particolare attenzione naturalmente a quelle che sono documentate meglio, cioè le grandi Dionisie o Dionisie urbane. E abbiamo concentrato la nostra attenzione soprattutto sul V secolo, sul periodo per il quale le nostre informazioni sono più numerose e permettono di delineare un quadro abbastanza coerente e omogeneo. Abbiamo visto come la Polis, attraverso i suoi magistrati, fosse presente in tutte le fasi di organizzazione degli agoni drammatici, come sovrintendesse agli aspetti logistici e di decoro urbano connessi allo svolgimento delle feste e anche alla manutenzione delle strutture destinate a ospitarle, attraverso un sistema che abbiamo identificato essere quello dell'appalto. Dunque organizzando e gestendo di fatto l'opera di privati. E abbiamo visto infine anche come tenesse registrazione pubblica degli agoni drammatici, dei loro protagonisti principali e dei risultati delle competizioni. Quanto ai privati il loro intervento si configura soprattutto come un atto evergetico, cioè come un atto di liberalità verso la comunità che assume la forma di un esborso di carattere economico per il finanziamento, in quel caso proprio dello svolgimento dello spettacolo, e prendeva il nome tecnico di corregia. Oggi cercheremo di scendere un po' cronologicamente e di vedere che cosa accade di questo modello ateniese, in particolare sempre ad Atene nel corso del IV secolo, e poi scendendo ancora un po' nel corso dell'età ellenistica e cercando di allargare lo sguardo al resto del mondo greco. La nostra linea d'indagine rimarrà diciamo sempre costante, cioè riguarderà gli aspetti civici e istituzionali, l'attenzione della città verso il teatro, i sistemi di gestione e il rapporto con l'evergetismo privato. Cercheremo in particolare di capire se, come si è sostenuto a lungo, possiamo parlare davvero di un declino del teatro a partire già dal IV secolo, o se invece non sia più prudente parlare di una sua evoluzione in rapporto ai cambiamenti sostanziali che intervengono in questo periodo. Allora, il IV secolo per tutto il mondo greco, in generale, per Atene in particolare, è un periodo di rivolgimenti profondi. Con la fine del V secolo, con la conclusione della guerra del Peloponneso, Atene ha perso il suo impero e anche se poi nel corso del secolo successivo viene costituita una seconda lega degli Oattica, questa lega nasce con caratteristiche diverse, volutamente diverse, per evitare almeno teoricamente gli errori del passato, e non raggiunge mai lo splendore e l'ampiezza della prima. Il mondo greco vive una fase di egemonia di Sparta con l'appoggio della Persia, poi il protagonismo di Tebe con l'egemonia cosiddetta tebana, e infine vede il progressivo affermarsi della potenza macedone sotto la guida determinata e capace di Filippo II. Nel 338 le forze macedoni sconfiggono le truppe alleate greche nella battaglia di Cheronea, in Beozia, alle porte dell'Attica però, e inizia così un'epoca nuova in cui le città greche devono fare i conti con un nuovo potere egemone, questo sì diverso rispetto al passato, perché dopo la morte di Filippo nel 336 lo scettro passa al figlio, non senza traumi tra l'altro, Alessandro, la cui azione di conquista allarga in modo inatteso e decisivo gli orizzonti politici ma anche culturali del mondo ellenico. Dopo le sue campagne vittoriose in Asia il quadro politico appunto cambia radicalmente e non solo perché la creazione di un impero vastissimo porta per la prima volta un uomo di cultura greca a governare là dove fino a poco tempo prima aveva governato il gran re di Persia, ma anche perché di lì a poco dovrà nascere con la sua morte e con i suoi successori, con i diadochi, una forma di potere diversa destinata a durare fino all'avvento di Roma, cioè il regno ellenistico. L'impero di Alessandro aveva già posto molte città greche nella condizione di doversi rapportare con un vincitore e di riconoscerne l'autorità. Questa situazione era destinata a diventare appunto definitiva dopo la sua morte. Dopo la sua morte l'impero viene spartito fra i generali e nacque una serie di regni che poi per lungo tempo furono in realtà in lotta fra di loro e la situazione assume un aspetto stabile, quello che vedete raffigurato in quella slide, grosso modo verso il 281 quando comincia di fatto la seconda generazione dei diadochi e i regni che vedete in questa slide avranno vita fino all'affermazione definitiva di Roma. L'ultimo che accedere, come sappiamo, sarà l'Egitto. Ecco, sullo sfondo di questo rapido quadro storico la nostra attenzione naturalmente si focalizza sul teatro e sulla sua evoluzione. Che cosa accade della gloriosa esperienza vissuta nel V secolo? Allora, come vi anticipavo prima, una posizione a lungo condivisa fra gli studiosi vedeva già nel IV secolo un periodo di declino reso irreversibile dall'avvento di Alessandro e poi dalle monarchie ellenistiche. Questo declino era in realtà un declino di tutto il mondo greco delle poleis, segnato dalla perdita di quei valori e di quella condizione che più tenacemente lo aveva contraddistinto fino ad allora, cioè la libertà e l'autonomia delle sue piccole città-stato. La polis era morta a Cheronea, questo è un mantra che è stato ripetuto per tantissimo tempo, e il suo spegnersi aveva coinvolto anche l'esperienza drammatica. Il teatro e le rappresentazioni drammatiche in generale avrebbero perso ogni significato, non avrebbero avuto più alcun ruolo che non fosse quello di distrarre delle masse completamente amorfe e depoliticizzate. Questa è una visione che solo a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso è stata attaccata in maniera decisa e su diversi fronti. Uno dei più interessanti è proprio quello che ha riguardato il destino delle rappresentazioni drammatiche nella stessa Atene, studiando in particolare quelle che chiameremo oggi con un termine moderno le politiche culturali che furono messe in atto nel quadro di un'attenzione più generale in realtà verso la gestione e l'incremento delle risorse finanziarie della città. Allora, verso la metà del quarto secolo le nostre fonti offrono per Atene un quadro molto interessante dell'importanza del teatro stesso nell'economia ateniese e nel terzo quarto del secolo si avverte da parte dei governanti attici un'attenzione nuova verso il teatro. Si coglie la loro preoccupazione vera e profonda di sviluppare quella che alcuni studiosi contemporanei, Xapo e Wilson, che ritroveremo nella bibliografia che vi proporrò alla fine dell'incontro, questi studiosi hanno chiamato con un'espressione forse un po' moderna ma efficace l'industria culturale ateniese. Allora, i protagonisti del momento sono due politici di primissimo piano, Eubulo, che di fatto gestì le politiche di Atene fra il 355 e il 337, e Licurgo, che ricoprì lo stesso ruolo nei decenni successivi, nel periodo delicatissimo che fece seguito alla sconfitta di Cheronea, più precisamente negli anni tra il 336 e il 324. Quando Eubulo assunse il ruolo che doveva renderlo celebre nell'amministrazione delle finanze cittadine, Atene esce da un periodo di grave crisi. Era un'esperienza, diciamo, di guerra ancora una volta, una guerra che si era conclusa nel 355, che Atene aveva perso e che passa sotto il nome di guerra degli alleati. In realtà, potremmo definirla molto più semplicemente una rivolta di alcuni stati importanti alleati di Atene nell'ambito della Seconda Lega, cioè Rodi, Chio, Cos e Bisanzio. Ancora una volta le mire di Atene, come già era successo nel V secolo, avevano rivelato, come dire, un volto, ancora una volta un po' troppo duro, e questa volta però, diciamo, le ribellioni erano state efficaci, Atene aveva perso la guerra. Ecco, lo spirito di quest'epoca, quindi, è un'epoca difficile, e lo spirito di quest'epoca, come dire, improntato anche a un'esigenza nuova di pace, che nasceva anche da un problema economico reale, le casse di Atene erano vuote, uno spirito appunto in cui la città aveva in primo luogo bisogno di rinascere, viene riassunto molto bene in un'operetta considerata minore di Senofonte, ma che è fondamentale per chi si occupi di economia antica, un'operetta che passa sotto il nome di Poroi, cioè le entrate, in senso economico naturalmente, il modo in cui la città può fare soldi per, come dire, rimpinguare le sue casse. Ecco, Senofonte, in questo passo che vi ho riportato, scrive, se alcuni ritengono che una pace durevole implicherebbe per la nostra città una perdita di potere, di gloria e di fama in Grecia, a mio avviso costoro sbagliano. Si dice infatti che le città più felici siano quelle che godono il periodo di pace più lungo, e fra tutte le città, Atene è quella che si trova nelle condizioni più naturali per prosperare in periodo di pace. Infatti, se la città è tranquilla, chi non avrà bisogno di lei, a cominciare dagli armatori e dai mercanti? Non forse coloro che dispongono di grandi quantità di grano, o di vino, o di olio, o di bestiame, si intende naturalmente da vendere, uomini che sanno come condurre i loro affari con cervello e denaro. E non forse anche artigiani, sofisti, filosofi e poeti, e coloro che si avvalgono della loro arte, e coloro che hanno desiderio di spettacoli che vale la pena vedere e ascoltare, siano essi sacri o profani? E infine, coloro che hanno bisogno di vendere o di acquistare molte cose rapidamente, in quale altro luogo potrebbero ottenere il risultato desiderato se non ad Atene? Dunque, come vedete, l'operetta appunto è un'operetta improntata, è un trattato economico di fatto, quindi il quadro, l'interesse, il focus è su come fare soldi per Atene. Però, come vedete, l'arte e la poesia sono strettamente integrate in questo quadro, è un aspetto estremamente interessante. E in effetti, in questo periodo, ci sono delle affinità tra quello che dice Sanofonte e le politiche poi condotte in questo periodo, contrassegnato da una precisa consapevolezza nell'introduzione di nuovi strumenti e nuove pratiche finanziarie, e l'attenzione e l'impegno, esplicitamente volti a generare questa nuova ricchezza, sono posti al centro delle politiche, dei due politici che abbiamo visto. E furono politiche produttive, che generarono nuova ricchezza. E una larga parte di questa ricchezza venne impiegata all'arte e alla cultura drammatica. È il periodo in cui viene costruito il nuovo Teatro in Pietro di Dioniso e ci furono iniziative che riguardano anche altre feste. Ma quello che è interessante, come vedremo, è che non solo si cerca di fare soldi per spenderli ai fini culturali, artistici e teatrali, in senso più stretto, ma che il teatro stesso viene concepito come un mezzo che può offrire un ritorno di tipo economico. Dunque, questi che vi ho riportato in questa slide sono i punti essenziali della politica di Eubulo, il primo delle due figure che abbiamo menzionato, al quale viene associata dalle fonti una politica economica efficace e prudente, che privilegia il risanamento delle finanze civiche, appunto rispetta una visione espansionistica. E una politica che portò effettivamente Atene fuori dalla profonda crisi in cui era accaduta. I punti fondamentali, li vedete, sono questi, li vedremo poi uno per uno. L'istituzione o il consolidamento del fondo per gli spettacoli, il Teoricon, la monumentalizzazione del teatro di Dioniso, l'istituzione di una nuova figura di funzionario pubblico, l'architecton, l'affitto a privati di terre e di proprietà, sia della città che dei santuari, perché anche i santuari avevano terre di proprietà che potevano essere sfruttate, incentivi per sollecitare le donazioni e la celebrazione del passato culturale di Atene. Allora, a Deobulo è direttamente legata l'istituzione del cosiddetto Teoricon, il fondo degli spettacoli. In che senso istituzione? Come abbiamo già visto l'altra volta, in realtà il Teoricon è probabilmente un'iniziativa riconducibile a Pericle. Tant'è vero che poi sappiamo che all'inizio del IV secolo un altro uomo politico importante di cui abbiamo già fatto il nome, Agirio, del demo di Collito, lo aveva innalzato dai due oboli periclei a tre. Però, diciamo, quello che Obulo fece fu trasformare questo fondo, questa forma di elargizione sostanzialmente, in un fondo pubblico e lo riorganizzò in maniera efficace, in modo che potesse durare nel tempo. Con lui il Teoricon diventa una cassa a tutti gli effetti dello Stato e la cosa più importante è che questa cassa era costantemente alimentata da tutte le eccedenze di tutti gli altri fondi dell'Attica. Come capite, diventa, diciamo così, il punto di raccolta principale delle finanze pubbliche. Ed aveva, e questa è un'altra istituzione di Obulo, aveva, diciamo, la sua gestione era affidata a un gruppo di funzionari appositamente nominati, tra i quali fu nominato per più anni lo stesso Obulo e questo gli consentì, appunto, una prospettiva di lunga durata per la sua politica. È evidente che questa nuova configurazione del Teoricon non andò proprio giù a tutti e uno, perché penalizzava altri fondi ritenuti centrali per la città, soprattutto centrali per coloro che avevano una visione politica diversa, orientata più verso l'aggressione, l'espansione, no? E uno di questi, come sapete, era de Mostene. Difatti ci furono tensioni tra i due politici e alla fine poi sarà de Mostene ad avere la meglio. Il fondo degli spettacoli, oltre che finanziare, appunto, l'accesso agli spettacoli pubblici, è in realtà un ruolo fondamentale, perché i fondi così raccolti vennero finalizzati a tutta una serie di azioni, incluso un vasto e importante programma di lavori pubblici. Una parte importante di questi soldi finirono quasi certamente nel finanziamento del teatro, del nuovo teatro in pietra, che è quello che abbiamo visto l'altra volta alla slide di apertura e ve la ripropongo esattamente ora. Ecco, molte delle nostre fonti insistono sul fatto che questo splendido teatro fu opera di Licurgo, l'uomo politico che succedette ad Eubulo nella guida di Atene. In realtà studi recentissimi, cioè si parla appunto del, insomma, i primi anni di questo secolo, insomma, hanno dimostrato che l'opera, una parte dell'opera, un'ala, era già completa nel 340 avanti Cristo, il che ovviamente impone di considerare l'inizio di questi lavori intorno al 350 circa, quindi dunque durante gli anni di governo di Eubulo. Era un progetto sicuramente imponente che ancora oggi, insomma, suscita ammirazione. Si stima che circa 6.800 tonnellate di pietra fossero necessarie solo per i gradini che dovevano ospitare gli spettatori. Quanti spettatori? Beh, le stime sono variabili, come tutte le stime, insomma. Si ritiene però, e queste sono le stime di Xapo, l'archeologo di cui vi ho citato prima, e sono però abbastanza accreditate, si ritiene che il nuovo teatro potesse ospitare tra i 10 e i 15 mila spettatori, contro i 4-7 mila del teatro di età classica. Quindi, diciamo, tutti questi lavori per i gradini, ma poi ci sono anche naturalmente i lavori preparatori, lo sterro sulla collina, diciamo le azioni sulla roccia sottostante perché il teatro avesse il suo alloggiamento, insomma, fu un lavoro imponente, cioè nessun edificio di questa scala e di questo impatto era di fatto stato più concepito e realizzato ad Atene dopo il grande e magnifico programma pericleo del V secolo. E come è stato efficacemente detto, si trattò anche probabilmente del primo tentativo di trasformare un edificio destinato all'intrattenimento, cioè un teatro, in un monumento vero e proprio. Da notare che le circostanze in cui questo programma imponente fu messo in atto erano profondamente diverse da quelle in cui si trovava l'Atene di Pericle. In quel periodo Atene aveva goduto di una ricchezza e di una prosperità senza precedenti. Ora Atene stava uscendo da un periodo di crisi e quindi ci possiamo legittimamente chiedere che cosa pensava Ubulo quando concepì questo programma. Ecco, quasi certamente non si trattava solo della volontà di abbellire la città, quanto piuttosto, come già era stato di fatto negli intenti anche di Pericle, mettere in moto la sua economia. Un'opera di questo genere necessita una quantità di mano d'opera notevolissima, come possiamo appunto immaginare, come quindi attraverso la creazione di lavoro su larga scala. Però l'aspetto per noi più interessante è che Ubulo abbia scelto proprio il teatro per cominciare questo tipo di attività. Ed è evidente dunque che riteneva l'attività edilizia su questo edificio come sufficientemente promettente per il futuro, diciamo in termini di investimento di immagine sicuramente, ma anche di ritorno economico, tale da giustificare un investimento di questa portata. A questo periodo e probabilmente in concomitanza con queste iniziative risale anche un importante cambiamento istituzionale. Probabilmente nel 346 viene istituita, vi dicevo, la figura dell'architecton. Il personaggio che viene indicato con questo nome è quanto di più lontano dal professionista che porta oggi un nome molto assonante, diciamo. Si tratta di un funzionario stipendiato dallo Stato che compare anche in altre città del mondo greco, più o meno negli stessi anni del Fidelo, anche lì in connessione con la realizzazione di grandi progetti edilizi che in questo caso naturalmente scopriamo soprattutto grazie agli studi dell'archeologia. Non scopriamo ma datiamo, insomma, ne scopriamo l'evoluzione. Ecco, studi recenti associano appunto la comparsa di questa figura alla realizzazione dei teatri in pietra, in particolare proprio del monumentale teatro di Dioniso che avrebbe imposto naturalmente una gestione, tipologie di manutenzioni diverse rispetto a quelle dei teatri lignei che lo avevano preceduto. L'iscrizione che conserva l'appalto del teatro del Pireo, che abbiamo visto l'altra volta, che si data qualche anno dopo rispetto all'inizio della costruzione, negli anni 20 del 300, testimonia che il sistema degli appalti era ancora in vigore, almeno a livello dei demi, ma è evidente che a livello centrale, però per la gestione di teatri più grandi e più impegnativi, si sente l'esigenza di creare qualcosa di diverso. Si passa dall'appalto privato a forme, diciamo così, di controllo più stretto da parte dello Stato e quindi con magistrature appositamente elette. C'è più di un funzionario con questo nome ad Atene, non c'è solo l'architetto preposto ai santuari, che è quello che si occupa tra le altre cose anche del santuario e del teatro di Dioniso. Ci sono anche sovrintendenti, per esempio, alla fabbrica delle mura, al porto. Nel caso nostro, l'architetto preposto ai santuari avrà sovrinteso, immaginiamo, considerato il periodo, sia i lavori di costruzione, di realizzazione della fabbrica del teatro, ma poi avrà avuto compito di sovrintendere anche alla manutenzione e, da quello che sappiamo, con certezza era lui adesso che raccoglieva i soldi dei biglietti, sostanzialmente, che funzionavano come sistema anche qui di incasso e di, come dire, di finanziamento del teatro stesso. Anche qui sono state fatte delle stime su quanto si poteva racimolare e si è pensato indicativamente a una cifra di circa quattro talenti e mezzo, che è una cifra che possiamo considerare ragguardevole. Quello che vi ho messo nella slide, in realtà, è la testimonianza di un residuo del passato. Come vedete, viene dallo studio di questa studiosa, che si chiama Papastamati von Mock, che è una del soprintendente dei lavori del teatro di Dioniso ad Atene, attualmente, che, appunto, controlla gli scavi attuali. Quello che è venuto alla luce sono state queste lastre di pietra, in realtà, appunto, una visione dall'alto, con degli incavi profondi, che con ogni probabilità, siamo nel campo delle ipotesi, ma delle ipotesi plausibili, dovevano essere gli alloggiamenti destinati ad ospitare le basi di quelle strutture linee, chiamate icria, che dovevano servire, appunto, a sostenere, poi, i palchi di legno su cui stavano sedute, da un lato, le persone del pubblico e, dall'altro, probabilmente, la stessa scena che, originariamente, era anch'essa in legno. Quindi, vi ho messo quest'immagine per, così, diciamo, avere un'idea un pochino più concreta di quello che poteva essere il prima rispetto, invece, al grande teatro che viene realizzato poi dopo. Allora, la certezza che, diciamo, il Fondo per gli Spettacoli finanziasse anche la monumentalizzazione del teatro, in realtà, l'abbiamo soltanto qualche anno dopo, nel periodo di Licurgo. E ce la dice chi? Ce la dice un dettaglio del grammatico arpocrazione, vissuto nel secondo secolo dopo Cristo, che riporta un frammento di un'orazione pronunciata da un politico, in realtà, del tempo di Licurgo, cioè Filino. Abbiamo già visto come per noi i grammatici e gli scoliasti siano spesso testimonianza preziosa di questi frammenti del passato. E che cosa diceva Filino? Beh, innanzitutto notiamo l'orazione. L'orazione si intitolava Contro le statue di Sofocle e di Euripide. E cosa dice Filino? Dice Filino, riporta apocrazione, nel discorso Contro le statue di Sofocle e di Euripide, dice, parlando di Eubulo. Venne chiamato Fondo per gli Spettacoli, Teoricon, perché Eubulo, quando ormai le Dionisi erano prossime, fece una distribuzione di denaro per i sacrifici, affinché tutti potessero prendere parte alle feste e nessun cittadino fosse privato degli spettacoli per mancanza di mezzi. Al netto della testimonianza che è parziale su alcuni aspetti, l'aspetto interessante è che Filino, che chiaramente si oppone alla realizzazione delle statue, dice che il Teoricon non deve servire per la realizzazione delle statue. Il Teoricon serve solo, per come l'ha voluto Eubulo, a finanziare coloro che partecipano agli spettacoli, coloro che non potrebbero e così invece possono. È chiaro che il discorso ha un senso, se lo pensiamo in opposizione a un utilizzo diverso del Teoricon che qualcuno voleva fare e questo qualcuno non può essere altro che Licurgo, che in quel periodo effettivamente, lo sappiamo da altre fonti, fece costruire statue in bronzo dei grandi tragici e le fece mettere in un luogo molto preciso che vedete, che è questo, e che è il passaggio est, la parodos est del teatro. E alla fine, diciamo, in realtà, le statue che furono collocate in quella posizione furono addirittura quattro, ma in momenti diversi. Questa ricostruzione che vi ho dato, questo è lo schema del passaggio est del teatro, la realizzazione è sempre di quella studiosa che vi ho citato prima, la Papastamati von Mock, in un articolo del 2007, che però poi ha ripreso con ulteriori dettagli, molto più recentemente nel 14, ecco, lei, diciamo, ricostruisce questo tipo di collocazione. Le basi sono ancora in situ, naturalmente, la grande base che ospita i tre tragici. Come vedete, lei utilizza qui, per la sua ricostruzione, le statue dei tragici non sono state trovate. Lei mette quelle figure che vi ho proposto nella slide precedente, vedete, che sono in realtà, vengono da tutt'altri posti, però lei, per dare un'idea di quello che potevano essere, le colloca nella sua ricostruzione. E poi, a fianco, trovate un'altra statua, quella di un personaggio seduto, che invece è il Menandro. Ma Menandro, quella è stata veramente trovata in situ nel teatro di Dioniso, però è molto posteriore, perché naturalmente Menandro muore tra il 92 e il 292, il 290, e poi dopo la sua figura assume, diciamo, quel ruolo che gli altri già avevano, come dire, assunto in precedenza. Quindi questo è, diciamo, abbiamo certezza che questo fondo fu effettivamente utilizzato anche per altre cose che non fossero il finanziamento soltanto della partecipazione agli spettacoli. Ma, diciamo, questi provvedimenti che abbiamo visto, cioè l'impiego del Teoricon, non furono i soli che un bulo mise in campo per sostenere le attività drammatiche. Lui puntava molto, e questo lo si ricostruisce da tutte le varie notizie sparse sulla sua biografia, anche sulla contribuzione privata, e avvia, come vi dicevo, un programma di affitto delle terre pubbliche a cittadini che fossero interessati. Affitto vuol dire che poi i soldi vanno a confluire in un fondo dello Stato che può essere reinvestito, naturalmente, in altre cose. E sollecita anche le donazioni. E lui stesso diede il buon esempio, come testimonia un'iscrizione che non vi ho riportato perché è estremamente lacunosa, però in un punto figura il suo nome e poco prima figura una somma donata e figura la schenè. Quindi è molto probabile che, siccome si tratta chiaramente di una lista di donatori, che lui stesso avesse dato il buon esempio contribuendo personalmente a qualcosa che singolarmente si associa, ancora una volta, ad attività drammatiche. In questi stessi anni, e questa è un'altra immagine che avete già visto, tra il 347 e il 343 vengono fatti scrivere i fasti, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, una straordinaria celebrazione su una stela di 2,7 m per 1,8 m del grande passato culturale di Atene, che era allo stesso tempo un incitamento a rinnovare la grandezza di quel passato. Il suo successore Licurgo comprende il valore del teatro probabilmente più di qualsiasi altro politico ateniese. Oggi sappiamo che fu lui a portare appunto l'iniziativa a compimento, cioè sappiamo che fu Eubulo a cominciarla, ma lui decise di proseguirla e di portarla a compimento, tant'è vero che in molti libri, in molti manuali, ancora si parla del teatro di Licurgo. Ma è giusto che sia così, nel senso che fu lui a completare un'opera che il suo predecessore aveva iniziato. E questo successo è probabilmente dovuto anche a un altro fatto che contraddistingue la politica di Eubulo, la grande capacità di comunicazione che contraddistingue questo periodo, non solo Licurgo in quanto tale, che non dobbiamo dimenticare era anche un oratore, ma anche la cerchia di personaggi che gravitano intorno a lui. Questi politici, come già era successo per il Pericle del V secolo, in genere non operano poi da soli, è il loro nome che emerge, ma sono circondati da una schiera di figure che ne seguono la politica, la sostengono, l'aiutano anche con, diciamo, un finanziamento privato. In un'opera dal titolo Le vite dei dieci oratori, una delle operette che sono finite poi nei Moralia di Plutarco, Plutarco traccia un profilo molto eloquente delle doti di politico e soprattutto di amministratore di Licurgo e in questo ritratto, che vi ho riportato integralmente, quasi integralmente, spicca l'attenzione appunto per il teatro. E Plutarco ci dice Licurgo si distinse in politica sia come oratore, sia come amministratore, in particolare nella gestione finanziaria che gli fu affidata. In effetti, durante i suoi tre mandati quadriennali, come tesoriere pubblico, ebbe a gestire 14.000 talenti, secondo alcuni, 18.650, secondo altri. Sono cifre astronomiche per il periodo. Poi l'ho tagliata questa parte, ma Plutarco spiega come mai, cioè in realtà è un po' come quello che era successo per Pericle, l'iterazione della carica non sarebbe sempre consentita, ma Plutarco spiega che lui gestisce, diciamo, ricopre questo ruolo di fatto per interposta persona, attraverso anche sotto il nome di amici. Di fatto è lui che controlla per questi anni le finanze pubbliche. Costantemente d'inverno come d'estate dirigeva i lavori, fece costruire per il popolo 403 remi, risistemò e piantumò il ginnasio del liceo, costruì la palestra e, incaricato dei lavori del teatro di Dioniso, li portò a compimento. Fece fabbricare per lo stato dei vasi processionali in oro e argento e delle statue delle vittorie in oro. Fece approvare delle leggi. Una, relativa agli attori comici, stabiliva che il giorno della festa delle pentole si organizzasse in teatro un concorso di commedie, il cui vincitore sarebbe stato inserito nella lista degli attori selezionati poi per le Dionisie urbane, cosa che prima non era possibile. In questo modo riporta in vita un concorso caduto in disuso. Una seconda legge decretava di erigere delle statue in bronzo, le abbiamo viste, dei poeti Eschilo, Soffocle e Euripide, di fare eseguire e di conservare negli archivi una copia ufficiale delle loro opere che il segretario della città doveva leggere agli attori incaricati di interpretarle. Non era infatti permesso di discostarsi dal testo ufficiale. Dunque, il ritratto che vi ho voluto leggere nelle parole originali, piuttosto che riassumerlo, è quello di un amministratore straordinario che occupa in continuità assoluta con chi lo aveva preceduto e ne conclude, diciamo così, le iniziative. Certamente una parte, visto l'interesse per le iniziative drammatiche, per il teatro e le iniziative così pesanti che Licurgo intraprese, una parte di queste somme astronomiche che sono ricordate, finì anche nella gestione, nei lavori pubblici. Certo, non solo il teatro, abbiamo parlato, fa costruire delle triremi, insomma, non si occupa solo di teatro, però sicuramente ebbe un'attenzione specifica per luoghi simbolo di Atene. Il teatro, abbiamo visto il ginnasio, la palestra e così via. Vediamo un po' più in dettaglio la sua attività. Il periodo di Licurgo, diciamo, è segnato da molte novità in campo fiscale, novità, diciamo, che sconosciamo un po' meglio rispetto ad Eubulo, tutte dirette a rifornire le casse dello Stato e a finanziare vari progetti, molti dei quali associati, lo abbiamo visto, a feste e celebrazioni. Innanzitutto continua e intensifica la politica di affitto delle terre e però la mette, come dire, in sinergia con un altro, diciamo, tipo di attività che consiste in realtà nel prestito privato. Allora, la politica di affitto delle terre consiste nel fatto, come vi dicevo prima, che una terra che fino a quel momento era rimasta inattiva viene data in affitto a privati che la vogliano coltivare, che pagano un canone e il canone naturalmente, come dire, va a finire nelle casse dello Stato. È evidente che si tratta di un'iniziativa nei confronti dello Stato da parte di privati che ricalca e richiama quell'impegno civico che contraddistingue il buon cittadino. È anche questa, se volete, una forma di impegno pubblico, di evergetismo in qualche forma che richiama e ricalca linee di azione che abbiamo già visto nel passato. L'altra, come vi dicevo, era il fatto di costituire contemporaneamente un prestito, un fondo alimentato da prestiti di privati. Nel senso, lui chiedeva soldi, capitali non mobilizzati che venivano dati allo Stato. Lo Stato, a sua volta, li prestava e con l'interesse alimentava il fondo e alimentava le attività di costruzione o le attività che fossero state ritenute necessarie per la città. Naturalmente, in questo modo, mettendo in circolo nuovi soldi e mettendo in movimento, come diremmo noi oggi, l'attività economica attraverso appunto lavori che facevano sì che fossero da assumere operai e così via. Insomma, è, come dire, un modo molto efficace di rendere produttivi due capitali, uno immobile, le terre, l'altro immobile, i soldi, che altrimenti sarebbero rimasti probabilmente inattivi o sicuramente non fruttuosi per lo Stato. Mentre invece, in questa maniera, vengono mobilizzati ma a vantaggio della collettività. È naturale che, come dire, chiedere di mobilizzare un fondo privato, soldi intendo, per lo Stato può essere una richiesta di un certo tipo, insomma, può anche non convenire. Ecco, per questo si recupera il valore della liturgia perché il ritorno, per chi lo fa, è un ritorno, ancora una volta, d'immagine, è un ritorno di rapporto civico tra il buon cittadino e la comunità che beneficerà del suo gesto. Poi ci sono altre indicazioni abbastanza interessanti. Per esempio, la prima, che sono note solo grazie alle iscrizioni e che ci dicono quanto fosse, come dire, astuto, se volete, passatemi il termine licurgo, nel trovare modi per fare soldi quasi da tutto. La prima, come vi dicevo, è l'istituzione di un fondo in cui dovevano confluire in maniera stabile i proventi derivanti dalle vendite delle pelli dei numerosi animali che venivano offerti in sacrificio durante le grandi celebrazioni. E non a caso questo fondo prende il nome di Dermaticon, da derma, pelle. Ricorderete tutti che abbiamo visto la volta scorsa che nel 333 qualcosa come 240 vittime furono, come dire, offerte alla divinità in occasione delle grandi dionisi. Ecco, queste pelli diciamo, non furono più lasciate alla libera disposizione, furono requisite dallo Stato e divennero, o meglio, diciamo, vennero vendute e quindi si trasse profitto anche da qualcosa che indubbiamente forse prima non era così vantaggioso. Ecco, il fatto stesso che le iscrizioni ce lo ricordino indica che è una novità e che è frutto di una visione lungimirante di questo abilissimo politico. La seconda, anche questa, è una cosa nuova, tant'è vero che è stata, come dire, definita in maniera un po' moderna, ma l'immagine è efficace, una specie di imposta di bollo. Per chiunque esercitasse una liturgia veniva di fatto imposto, scusate, non una liturgia qualunque, una coregia, quindi diciamo qualcosa di legato al teatro, veniva imposto di dedicare una fiale, cioè una di quelle coppe basse e larghe del valore stabilito di 50 dracme alla divinità. Era un bene che poi passava automaticamente nelle casse statali. Quindi un altro modo per, come dire, obbligare i privati a una contribuzione. Non è una cifra spaventosa, ma è sicuramente tenuto conto delle corregie che c'erano, delle feste che c'erano, è un altro ulteriore introito che entra nelle casse pubbliche. Non solo, ma mobilitò i soldi degli amici. Noi sappiamo, sempre Plutarco ce lo dice, nelle vite dei dieci oratori, che un certo Deinias aveva donato, quindi donato, il terreno su cui sarebbe stato poi costruito lo stadio panatenaico. Quindi non stiamo parlando di un campetto, stiamo parlando di uno stadio che ha determinate misure e che certamente avrebbe dato lustro alla città e lustro a colui che aveva regalato il campo. E perché lo fa? Ce lo dice Plutarco per fare un favore speciale a Licurgo. Quindi sono rapporti di amicizia che diventano immediatamente rapporti civici messi a profitto a vantaggio dello Stato. Un altro sistema fu quello di, come dire, suscitare una sorta di gara nei confronti dei privati, dei funzionari pubblici, generando l'aspettativa che i funzionari pubblici dovessero contribuire con i loro soldi per il vantaggio pubblico. Infatti sappiamo che De Mostene, che era stato a un certo periodo funzionario alle mura, durante il periodo di carica offrì una somma cospicua per la città e per i suoi bisogni. E questa cosa ritorna, diciamo, non è soltanto un'illazione, la troviamo di fatto in qualche modo espressa direttamente dallo stesso Licurgo in una delle orazioni che ci sono rimaste, la controleocrate che vi ho riportato qui al 139 seguenti, Licurgo scrive alcuni di loro arriveranno a menzionare le liturgie che hanno prestato, qui si parla chiaramente di cittadini che, come dire, si sono resi benemeriti nei confronti dello Stato intervenendo a suo favore in vari campi. Ecco, verso Costoro dice Licurgo io mi sdegno in modo particolare, infatti hanno prestato questi servizi al solo scopo di portare lustro alle loro famiglie e ora chiedono a voi un pubblico riconoscimento. Se uno si è accollato le spese per nutrire i cavalli c'era anche una liturgia di questo tipo, cioè lo Stato disponeva di una certa quantità di cavalli pubblici destinati chiaramente a funzioni di parato o di guerra e anche questi andavano nutriti e una liturgia consisteva nel pagare il nutrimento e, come dire, anche la, in generale, la cura dei cavalli di Stato. O ha sostenuto splendidamente una corregia o altre liturgie costose, non per questo è degno di ricevere da voi un tale riconoscimento dal momento che per questi gesti lui stesso ha già ricevuto la corona senza portare agli altri alcun beneficio. Cioè il beneficio è già nell'onore pubblico che si riceve. Per guadagnarsi la vostra gratitudine egli deve pur piuttosto sostenere nel modo più splendido la trierarchia. Questa è una liturgia costosissima che consiste nel praticamente provvedere alle navi è qualcosa diciamo che va ben oltre diciamo i costi della corregia. Le navi vuol dire la manutenzione e lo stipendio dei naviganti insomma di coloro che ci sono le navi pubbliche intendo le navi militari che sono in possesso dello Stato e che vanno quindi manutenute vanno messe in acqua regolarmente per le azioni di pattugliamento di protezione dei carichi che arrivano regolarmente ad Atene e ovviamente per le azioni di guerra e chi si occupava di questa liturgia doveva pagare gli stipendi erimatori insomma era oltre che la manutenzione stessa e quindi insomma era una liturgia costosa ecco quindi dice deve piuttosto sostenere nel modo più splendido la trierarchia o costruire mura per la città o ricorrere generosamente ai propri beni per la salvezza della polis queste sono le azioni che hanno effetti per voi tutti e in queste si può vedere la virtù di coloro che hanno speso il loro denaro quindi per Licurgo il vero Everget era colui che spendeva soldi diciamo non si aspettava neanche il ritorno di una corona ma che anche se ricopriva già un incarico pubblico sborsava di tasca propria è un modo per portare l'idea della liturgia a un livello superiore chiaramente voi ricorderete che c'era la possibilità per i coreghi di rifiutare la coregia nel momento in cui potevano dire o non c'ho ancora l'età o sto già facendo un'altra cosa oppure lui è più ricco di me ecco Licurgo dice no assolutamente l'idea deve essere un'altra l'idea è quella di contribuire anche e soprattutto se si sta già facendo qualche cosa e appunto diciamo in questo modo porta come vi dicevo la coregia a un altro livello un altro aspetto interessante è la sua azione verso gli stranieri cioè Licurgo non si accontenta di mobilitare le risorse private degli atenesi sembra che abbia compiuto un'azione intensiva per favorire come dire i benefici che venivano da fuori e come utilizzando la decretazione onorifica e la concessione di privilegi questo lo vediamo da cosa solo dalle iscrizioni però in questo periodo abbiamo un numero notevole di decreti emanati prevalentemente in occasione di quella famosa assemblea che si teneva nel teatro di Dioniso dopo le grandi Dionisie di cui abbiamo parlato l'altra volta decreti nei quali vengono onorati in maniera cospicua cittadini stranieri e onorati come non con la semplice corona che certamente è gradita ma diciamo si limita all'onore vengono onorati con la concessione di privilegi che comportano dei vantaggi concreti a partire da quelli più lievi la proedria l'ingresso gratis i primi posti nei teatri ma altri che invece sono molto più interessanti come l'esenzione dalle imposte cioè il fatto che non si pagano più la cosiddetta ateleia non si pagano tasse per le merci che entrano escono dal porto o la sicurezza personale che viene garantita insomma benefici concreti che se noi pensiamo che chi frequentava Atene e il suo porto erano soprattutto mercanti potevano essere visti molto bene potevano essere un incentivo alla alla contribuzione alle iniziative pubbliche di Atene e poi due iniziative che abbiamo visto anche nel passo di Plutarco che abbiamo letto iniziative che riguardano proprio direttamente e miratamente l'attività drammatica la prima è quella del passo di Plutarco che si riferisce a questa cerimonia delle pentole allora questa era diciamo una cerimonia che apparteneva a una festa da Atenese di cui non abbiamo parlato le antesterie che si svolgevano circa un mese prima non ne abbiamo parlato perché non ci sono episodi drammatici non c'erano almeno episodi drammatici Licurgo crea una nuova competizione comica una gara di commedia questo non solo documenta l'interesse diciamo a come dire favorire a sostenere la commedia non solo la tragedia ma da parte di Licurgo ma in realtà ha un'implicazione ancora superiore perché perché lui offre come premio a chi avesse vinto questa competizione la possibilità di entrare di diritto alla competizione delle grandi Dionisie e quello era naturalmente un palcoscenico molto più interessante era l'incentivo che ci voleva per cosa che prima non era possibile abbiamo visto l'altra volta la selezione veniva fatta appositamente non c'erano preselezioni non c'erano come dire la possibilità di opzionare il posto in precedenza questa iniziativa naturalmente rende molto più appetibili queste nuove feste comiche e è un incentivo forte a attori e poeti a venire ad Atene a presentare le loro le loro opere e a esibirsi rinvigorisce in maniera molto chiara questo lo dice è un commento che fa lo stesso Plutarco una festa che stava cadendo in disuso la seconda iniziativa è ricordata in un passo diverso da Plutarco è l'istituzione di una gara di cori nel demo del Pireo ancora una volta il demo del Pireo ha un ruolo centrale nella nella visione politica degli amministratori ateniesi e ancora una volta abbiamo la prova dell'importanza di questo di questo demo nel quadro della città e infine l'ultima iniziativa che abbiamo visto era quella di creare un canone definitivo e ufficiale dei poeti tragici questa iniziativa si lega a un elemento nuovo importante che vedremo più avanti vale a dire l'uso di mettere in scena accanto ad opere originali create appositamente per le rappresentazioni opere che noi definiremo dei classici la domanda naturalmente è come dobbiamo intendere questa novità e come abbiamo come immaginate come abbiamo già visto una risposta che è stata data per lungo tempo è quella che vedeva in queste decisioni la conferma del fatto che non si riuscivano più a creare delle opere dello stesso livello della stessa qualità di quelle che erano state prodotte nel secolo precedente quindi una prova della decadenza del teatro ecco su questo che è un aspetto centrale per la comprensione del teatro ellenistico torneremo a breve quindi se dobbiamo dare una valutazione generale di quello che fu fatto ad atene dai suoi politici più importanti sullo scorcio del quarto secolo possiamo affermare senza dubbio che nel quadro di una preoccupazione molto forte per il risanamento delle finanze cittadine entrambi dimostrano un'attenzione marcata al valore della cultura che viene considerato non meno importante della sicurezza militare Eubulo e Licurgo vedono con chiarezza l'importanza sociale e identitaria delle tradizionali celebrazioni ateniesi per le future generazioni e si adoperano dunque per promuoverle non solo per promuoverle in maniera estemporanea ma attraverso la creazione di fondi appositi che si autoalimentano di garantirne il finanziamento anche per il futuro quindi non solo l'azione mirata per quegli anni ma la creazione di un sistema di sostentamento economico per le feste e anche per le azioni volte alla costruzione di opere come appunto il teatro che richiedevano chiaramente un impegno sul lungo periodo quindi fu un'operazione culturale di straordinaria importanza ma complessivamente fu probabilmente qualcosa di più la cultura drammatica con le sue tradizioni viene vista in maniera molto evidente come una voce economica importante per la città qualcosa su cui valeva la pena investire ecco il teatro inteso in senso fisico in questo periodo diventa anche qualcosa di essenziale per Atene diventa un modello in almeno due diversi significati dal punto di vista più semplicemente architettonico perché verrà poi imitato lo vedremo tra poco in molte parti del mondo greco ma anche in senso civico nel senso che il teatro il teatro monumentale in pietra diventa sempre più uno di quegli elementi visivi che caratterizzano la polis in quanto tale in tutto il mondo greco e anche su questo aspetto torneremo dunque questa è la situazione ad Atene così come le nostre fonti ci permettono di seguirla fino all'incirca alla fine del quarto secolo ecco cosa possiamo dire di quello che accade dopo allora per quello che accade dopo le nostre domande fondamentali rimangono due le stesse che abbiamo visto all'inizio è vero che in età ellenistica la produzione drammatica e la sua trasposizione sulla scena rappresentano un genere in declino ed è vero e le due questioni sono strettamente legate che il teatro è una manifestazione che ha perso il suo profondo senso civico e religioso diventando intrattenimento puro per degli spettatori che ormai a loro volta hanno perso una condizione essenziale quella consapevole di essere dei cittadini allora prima di rispondere a queste domande dobbiamo fare un punto fondamentale cioè mettere a fuoco la condizione delle nostre fonti perché nel momento in cui affrontiamo queste domande dobbiamo essere ben consapevoli che le fonti che hanno sostenuto la nostra ricerca fino a questo momento cioè soprattutto le fonti letterarie subiscono un drastico calo cioè le fonti di cui ci serviremo cambiano profondamente e dal tipo di fonti che noi utilizziamo dipende naturalmente il tipo di indagini che possiamo fare il modo in cui possiamo farle e naturalmente le risposte che possiamo ottenere allora per apprezzare nel valore giusto il posto che il teatro ha il suo significato nelle città ellenistiche ci manca praticamente un dato essenziale cioè i testi i testi delle commedie e delle tragedie che furono scritte e messe in scena in questo periodo stiamo parlando del periodo incluso tra la fine del IV secolo e poi giù a scendere fino al I già per il IV secolo possediamo praticamente solo le commedie di Menandro e forse secondo alcuni ma l'ipotesi è controversa il reso di Euripide che sarebbe attribuibile in realtà a un periodo più tardo fra i poeti tragici Alessandrini quelli cosiddetti poeti della Pleiade che raggiunsero la fama nel corso del III secolo del solo Licofrone abbiamo conservata un'opera nella sua interezza che è l'Alessandra un poema complesso e affascinante ma che difficilmente potremmo considerare esemplificativo della produzione drammatica del periodo il resto della produzione è praticamente scomparso tutto quello che noi abbiamo di tutto quello che fu scritto e prodotto restano frammenti citati in altre opere spesso quelle di quegli stessi grammatici e lessicografi che abbiamo già utilizzato più volte ora l'aspetto positivo però è che disponiamo di altre fonti di natura diversa fondamentalmente indirette e più disperse e anche più complesse quindi da analizzare ma non per questo meno interessanti si tratta innanzitutto e ve le ho elencate in questa slide di fonti epigrafiche che cosa sono? sono quei cataloghi di vincitori e liste di opere rappresentate che abbiamo già visto l'altra volta che sono ne abbiamo viste per Atene ma che troviamo in età ellenistica diffuse in tutto il mondo greco decreti onorifici di città anche questi non solo ateniesi per benefattori che hanno finanziato opere teatrali o lavori di ripristino delle strutture architettoniche legate a rappresentazioni decreti onorifici per amministratori che hanno fatto bene il loro lavoro monumenti coregici sul modello di quello di Lisicrate che abbiamo visto l'altra volta che celebrano le vittorie ottenute e dediche a Dioniso dopo la vittoria ecco i casi che abbiamo visto l'altra volta i casi di iscrizioni danno un'idea della difficoltà che si incontrano quando si studia un documento su pietra a partire dalle condizioni in cui ci è arrivato che in molti casi sono veramente disperanti però il vantaggio di queste fonti è che continuano ad emergere dagli scavi archeologici con una frequenza molto maggiore rispetto a quelle diciamo a quanto le sabbie dell'Egitto non ci restituiscano nuovi papiri di opere letterali ci sono poi le testimonianze archeologiche cioè ciò che il mondo greco ci ha conservato dei teatri antichi costruiti in età ellenistica ormai in pietra e dunque sopravvissuti nei secoli studiare queste strutture la loro storia la loro evoluzione ci offre indicazioni importanti sull'attitudine e l'interesse che le comunità che le hanno costruite avevano nei confronti del teatro guardando alle nostre fonti per l'età ellenistica c'è un'ultima considerazione di cui dobbiamo tenere conto che è un elemento nuovo anche se abbiamo notizie di altre celebrazioni al di fuori dell'attica l'imponenza delle fonti che provengono da Atene e dall'attica in termini di quantità e di qualità per lo studio del teatro classico fa sì che lo studio di questo teatro cioè del teatro di quinto secolo sia essenzialmente lo studio del teatro attico ecco in età ellenistica le cose cambiano sensibilmente cioè le fonti epigrafiche che noi abbiamo si moltiplicano epigrafiche archeologiche riferibili al teatro antico si moltiplicano per le realtà al di fuori di Atene e anche questo è un effetto del quadro politico che cambia perché la creazione dell'impero di Alessandro e poi dei regni dei diadochi finisce per creare degli stati amplissimi in cui però il modello culturale diventa rapidamente il modello greco gli orizzonti si allargano la cultura greca si diffonde e si radica come hanno detto qualcuno in maniera molto efficace al seguito delle truppe macedoni è un mondo più grande che in passato ma paradossalmente molto più collegato al suo interno è molto più coeso a cominciare dalla lingua se pensiamo che appunto quasi ovunque ormai si parla e si impone il greco della coenè ecco la diffusione del teatro inteso come manifestazioni drammatiche ma anche come strutture architettoniche preposte a ospitarle risponde a questa realtà nuova ed è anche di questo che dobbiamo tenere conto nella nostra valutazione del teatro di età ellenistica e dunque soltanto valutando senza preconcetti e accettando tutte le difficoltà e le sfide che ciò impone tutto questo materiale molto più numeroso molto più frammentato analizzandolo e valutandolo in tutte le sue implicazioni che noi potremmo veramente dare una valutazione più realistica di quello che fu il teatro in età ellenistica ed esattamente quello che si è cominciato a fare da circa una ventina d'anni e i risultati se siete d'accordo li potremo vedere magari dopo la pausa una pausa di una decina di minuti d'accordo? Grazie Allora riprendiamo e riprendiamo appunto dalla domanda che ci eravamo posti come possiamo valutare la visione tradizionale che è stata data del teatro ellenistico e come la valutiamo valutando i singoli elementi che sono stati addotti per considerare per considerare diciamo questa forma per avvalorare quest'idea di una decadenza del teatro ellenistico e uno degli elementi che più ha spinto a favore di una svalutazione della produzione teatrale di questo periodo da parte degli interpreti moderni è stato proprio il fatto che da un certo punto in poi ad Atene cominciano a essere messe in scena opere del passato la ripresa nel quarto secolo di queste opere innalza diremo oggi a rango di classici i tre grandi autori tragici di quinto secolo a Eschilo Sofo Cleuripide e poi dopo anche per i comici Aristofane e poi dopo Menandro che viene canonizzato un po' dopo la scelta di riportare in scena drammi di un periodo precedente dell'età classica è stata interpretata come la prova che lo spirito creativo si era esaurito e che la qualità dei nuovi o che la qualità dei nuovi prodotti era considerata insoddisfacente in realtà questa visione può essere considerata quanto meno parziale le iscrizioni e non solo in Attica ci conservano lunghe liste di autori di tragedie di commedie e di drammi satireschi a testimonianza del fatto che anche in età ellenistica si continuò a scrivere e a produrre opere originali quindi il dato quantitativo in realtà rimane alto e il fatto che questo dato sia alto non deve stupire ha almeno due spiegazioni ripeto non abbiamo opere però abbiamo la loro traccia cioè il fatto che si continuino a iscrivere i vincitori i vincitori gli organizzatori gli attori e così via il fatto appunto che questo dato quantitativo sia alto non stupisce perché per due motivi la prima è che le stesse fonti epigrafiche ci testimoniano che sia in Asia sia in Grecia continentale in età ellenistica si moltiplicano le feste in onore di Dioniso i Dionisia che costituivano altrettante occasioni nelle quali i poeti contemporanei avrebbero potuto e dovuto rappresentare mettere in scena opere nuove in questa carta vedete i luoghi in cui nel periodo compreso tra il IV e il I secolo a.C. sono attestate delle feste dionisie in occasione delle quali sappiamo per certo dalla documentazione epigrafica che avevano luogo dei concorsi drammatici sono città del mondo greco insulare come Delo Nasso Paro Amorgo Cos o le più grandi Samo e Rodi prospicenti le coste dell'Asia minore e anche grandi comunità d'Asia minore come Priene Mileto Iasos o ancora andando dall'altra parte l'isola di Corcira nel mare Ionio ma dobbiamo quindi diciamo questo è un elemento importante ma dobbiamo tenere conto di un secondo fatto e questa appunto è la seconda spiegazione che nel corso dell'età ellenistica agoni drammatici tragici e comici furono integrati anche in altre celebrazioni e feste che non erano esclusivamente quelle di Dioniso in questa seconda in questa seconda slide voi vedete alcuni casi per esempio gli Eraia le feste in onore di Era sia ad Argo che nell'isola di Samo ospitarono appunto dei concorsi drammatici e lo stesso per un altro tipo di feste le Soterie che cominciarono a essere celebrate da un certo punto in poi a Delphi e così per tutte le località che vedete riquadrate in azzurro sulla carta che vi ho mostrato sia nella Grecia continentale insulare che in Asia minore tenete conto che ci sono anche alcune comunità in realtà della zona come dire del Mar Nero che non ho potuto inserire perché non ho trovato una carta adeguata che avesse tutti i nomi che mi servivano però ci sono delle comunità sulle coste del Mar Nero che celebrano feste con agoni ora se alcune di queste feste autorizzarono e anzi promossero la ripresa e la riproposizione sulla scena di drammi antichi sappiamo per certo che questi ultimi non sostituirono la messa in scena di opere nuove appositamente create per le feste stesse alle Dionisi di Atene la prima rappresentazione fuori concorso di una tragedia antica risale al 386 quindi in data alta nel IV secolo quella di una commedia antica al 339 sono però per il momento episodi sporadici la ripresa di tragedie antiche diventa annuale dal 340 e le commedie un po' dopo ma il dato interessante è solo a partire dal 250 abbiamo la certezza che un concorso riservato all'esecuzione di drammi antichi si affianca in maniera stabile a quello dei drammi nuovi che comunque non cessa mai in altre località del mondo greco fra quelle che abbiamo visto sulla carta le liste dei vincitori specificano se un attore per esempio ha vinto un dramma antico interpretando un dramma antico se un poeta ha vinto nella categoria dei drammi nuovi e il fatto che si sentisse la necessità di aggiungere questa notazione fa capire che tutta questa tipologia di gare continua ad esistere deve essere differenziata nel corso del tempo e questo questo dato la coesistenza e la notazione drammi antichi drammi nuovi è attestata fino all'impero quindi diciamo non cessano mai di essere prodotte opere originali specificamente per le varie competizioni quindi diciamo questo dato cioè il fatto che fossero riportati sulla scena drammi antichi non riporta non prova niente dal punto di vista della vena creativa di età ellenistica noi siamo assolutamente condizionati dalla perdita dei testi ed è questo che adesso veniamo infatti il secondo il secondo elemento che è stato addotto è proprio questo cioè cosa possiamo dire della qualità una delle cose che è stata degli argomenti che è stato portato dai fautori della decadenza del teatro in età ellenistica è proprio questo che in realtà il fatto che si sia perso il materiale di prima mano cioè che gli stessi che gli stessi autori antichi non abbiano sentito l'esigenza di ricopiare di tramandare le opere che sono state prodotte in età ellenistica sarebbe di fatto un giudizio di per sé cioè sono state considerate cose che non valeva la pena conservare e tramandare proprio perché in primis gli antichi stessi non ne hanno ritenuto opportuna la conservazione la domanda naturalmente è fino a che punto questo è un argomento valido allora è chiaro che non abbiamo obiezioni tranchant però le ragioni per le quali un testo può non essere conservato sono molteplici anche le scelte diciamo sono molteplici e sono complesse ci possono essere dei fattori ideologici di una determinata epoca linguistici tecnici e anche soprattutto accidentali e da questo punto di vista non è fuori luogo ricordare che quello che a noi resta della letteratura greca cioè o meglio quello che è perduto della letteratura greca antica è molto di più di quello che tuttora possiamo leggere in forma completa o in forma frammentaria e poi forse non è fuori luogo ricordare che la scoperta nelle sabbie dell'Egitto verso la fine del XIX secolo dei papiri che conservavano le opere di Menandro ha suscitato lo stupore completo degli studiosi che non si aspettavano mai più di trovare opere di quella qualità di quell'interesse di quella ricchezza sul finire del IV secolo quindi diciamo che è sempre opportuno valutare con grande cautela gli argomenti e silenzio cioè la mancanza di testi non è di per sé la prova del poco valore dei testi che sono stati perduti la ripresa di pezzi del repertorio classico di per sé poi non prova che la scarsa qualità del contemporaneo se pensiamo a un altro dato interessante il fatto che poco dopo la morte di Eschilo la città di Atene votò una legge che consentiva di rimettere in scena le sue opere cioè Eschilo fu apprezzato a tal punto che poco dopo la sua morte si valutò la possibilità di riproporlo ora se noi dovessimo trarre le estreme conseguenze da questa considerazione dovremmo dire che quello che è venuto dopo aveva poco valore ora quello che è venuto dopo si chiama Sofocle e si chiama Euripide quindi diciamo che una valutazione del perduto deve essere sempre estremamente prudente cioè delle implicazioni del perduto deve essere sempre estremamente prudente c'è invece un punto estremamente interessante che dobbiamo valutare e lo teniamo un attimo lì perché ci torniamo poi dopo che si volle effettivamente mettere in scena le opere del passato e questo merita una domanda cioè perché a un certo punto si è scelto questo perché si è voluto riproporle ecco su questo aspetto che è una questione storico-politica anche importante torneremo tra poco un altro elemento che è stato considerato a discredito diciamo così della produzione drammatica di età ellenistica è la progressiva crescita di importanza dell'attore rispetto al poeta e questa è una cosa che in parte abbiamo già accennato l'altra volta ma che vedremo meglio adesso e qui il giudizio che ha pesato è di quelli pesanti scusate il gioco di parole perché si parla di Aristotele Aristotele all'inizio del terzo libro della retorica nel passo che vi ho riportato parlando del discorso dopo aver parlato dei contenuti e della resa attraverso lo stile si occupa di un terzo punto della massima importanza ai suoi occhi e dice il terzo elemento è un fattore che ha una grandissima efficacia ma non è ancora stato trattato la cura della recitazione anche nella tragedia e nella rapsodia essa giunse tardi perché inizialmente erano i poeti stessi a recitare nelle loro tragedie questo l'avevamo visto anche la volta scorsa è evidente che nella retorica accade qualcosa di simile a quello che accade nella poetica la recitazione riguarda la voce e il modo in cui essa deve essere usata per esprimere ciascuna emozione quando ad esempio debba essere forte quando debole quando media e il modo in cui ci si deve servire dei toni acuto grave e medio e quali ritmi devono essere seguiti in ogni caso tre sono gli obiettivi cui si deve mirare il volume l'armonia e il ritmo quelli che li conseguono sono coloro che di solito vincono le gare poetiche e come gli attori sono oggi più importanti dei poeti questa è la frase naturalmente incriminata così accade anche nei dibattiti politici a causa della decadenza delle forme di governo ecco immaginate appunto una lettura di questo passo è stata condizionante per l'opinione che si aveva sulla composizione sulle opere composte in età cioè gli attori sono più importanti dei poeti allora come possiamo valutare che senso possiamo dare a queste affermazioni di Aristotele allora se lo guardiamo bene con attenzione questo passaggio in realtà non motiva il successo degli attori cioè il loro ruolo preminente nel riportare la vittoria rispetto ai compositori mettendo l'accento sulla povertà sulla scarsa qualità delle opere di questi ultimi l'accento è posto sulle qualità performative dell'attore sulla forza e l'incidenza che con la loro voce gli attori possono dare alla resa di un'opera drammatica in altri termini potremmo dire trasponendo il testo con un pochino di libertà che la migliore opera drammatica può essere rovinata da un pessimo attore da un attore che manca di quelle qualità espressive e vocali necessarie a tenere avvinto il suo pubblico a conquistarselo quello che sicuramente emerge dal discorso di Aristotele e anche dal confronto con un passato in cui il poeta recitava in prima persona è l'importanza crescente della tecnica il carattere sempre più professionale dell'arte recitativa in altri termini Aristotele non sta sminuendo l'arte del poeta sta piuttosto dicendo che ai suoi tempi ormai essa ha un imprescindibile bisogno di essere valorizzata da un buon attore in altre parole questo passo di per sé non dà un giudizio qualitativo sulle opere dice che qualunque opera può essere rovinata da un pessimo attore qualunque opera ha bisogno di un ottimo attore per avere tutte le ricadute necessarie per essere portata al successo anche questo passo è anche interpretato così mette in evidenza però un tratto caratteristico dell'età ellenistica vale a dire il fatto che un tratto diciamo dell'età ellenistica è intesa come drammaturgia contemporanea e gusti del pubblico un tratto che trova riscontro nella nascita e nella diffusione di attori professionisti e di compagnie di attori professionisti questo è un altro aspetto che dobbiamo tenere un attimo lì e su cui torneremo fra poco quindi la crescente popolarità degli attori non sminuisce in realtà il prestigio e l'importanza dei poeti se noi andiamo a vedere nelle nostre liste che sono un po' ormai il nostro punto di riferimento sempre frammentari e quindi da maneggiare con cautela noi però vediamo che continuano a comparire entrambe le categorie entrambe le figure e non c'è nell'organizzazione formale di questi testi niente che faccia pensare che venisse stabilita una gerarchia tra attori e poeti l'ordine della menzione quindi prima gli attori o prima i poeti può variare e spesso varia non solo da una città all'altra ma a volte non c'è neanche una precisa coerenza nelle liste di una singola città e in ogni caso continuano a essere menzionati entrambi e previsti premi sia per gli uni che per gli altri alcune osservazioni possono essere fatte anche dal punto di vista proprio economico cioè dei premi chi veniva pagato di più questa potrebbe essere anche una come dire una cartina di tornasole ecco purtroppo anche qui non è che abbiamo tutta questa statistica però ci sono alcuni casi interessanti per esempio uno che purtroppo appunto è abbastanza isolato viene da Tanagra di Beozia è tardo siamo nell'80 avanti Cristo quindi in qualche modo rappresentativo di una fase quasi finale della nostra parabola ecco questo questo testo l'attore protagonista della tragedia antica che viene messa in scena riceve un premio di 168 dracme ma il poeta tragico che crea l'opera nuova vince due premi e riceve quantitativamente un premio superiore per un totale di 303 dracme dunque diciamo che anche da questo punto di vista sicuramente il poeta non è penalizzato infine un dettaglio organizzativo minuto se volete ma interessante quei rituali civici di cui abbiamo parlato l'altra volta la segnazione delle corone che come vedremo hanno una grande importanza nel rituale complessivo dei diagoni drammatici continuano ad essere attuati il conferimento delle corone trova spazio prima delle tragedie nuove quindi diciamo è quello il momento che viene considerato centrale è quello il momento in cui si gratifica chi ha fatto del bene alla città e dunque è evidente che anche agli occhi di un pubblico di un'età più tarda è quello il momento centrale nelle feste cosa possiamo concludere in merito all'ipotesi dunque di un calo della qualità che certamente intervennero dei cambiamenti nei gusti e nelle forme espressive ma che forse considerate le nostre fonti sarebbe più prudente parlare di evoluzione e non di declino che il fatto che venissero riprese opere antiche non prova una carenza di vena artistica e che questo stesso fatto non ci dice nulla sulla qualità delle opere che continuarono a essere prodotte perché continuarono ad essere previste e richieste in tutte le competizioni drammatiche sia quelle di lunga data sia quelle di istituzione nuova ma veniamo qui a un punto che avevamo lasciato in qualche modo in sospeso cioè diciamo il problema della decisione di riprendere classici in un periodo in cui comunque non mancava quanto abbiamo visto fino adesso la produzione di buoni drammi contemporanei allora perché è chiaro che si trattò di un'operazione voluta e consapevole innanzitutto la spiegazione che è stata data come accennavo prima non è solo culturale probabilmente è una spiegazione che attinge anche alla sfera del politico allora alcuni studiosi hanno sottolineato come il teatro classico dell'Atene di Quinto sia il riflesso dei valori democratici della città che lo ha creato attraverso lo specchio del mito il drammatico sia tragedia sia commedia pensiamo soprattutto ad Aristofane ovviamente il teatro classico affronta i grandi temi della vita politica contemporanea mette in discussione le sue stesse istituzioni sulla questione della giustizia dei valori della convivenza civica e affronta anche senza troppi peli sulla lingua i problemi della guerra questa osservazione aiuterebbe tra l'altro a comprendere il grande successo degli agoni drammatici anche fuori da Atene in età ellenistica un successo che non può essere attribuito unicamente all'altro elemento fondamentale di questo periodo cioè la diffusione del culto di Dioniso cioè ci deve essere qualcosa di più che giustifichi perché come abbiamo visto gli agoni drammatici non si associano più solo al culto di Dioniso ma anche ad altre celebrazioni e dunque non può essere solo l'aspetto religioso che favorisce la diffusione di questa nuova tendenza la spiegazione sarebbe da cercare appunto negli effetti della campagna di Alessandro che promuove la diffusione della democrazia in molte delle città che Alessandro pone sotto il suo controllo molte città riacquistano una dimensione politica democratica e trovano dunque nella riproposizione di drammi classici i valori più autentici di quella democrazia che hanno adesso ritrovato questa ipotesi è accettabile sicuramente ha un fondo una corrispondenza storica forte ma forse è parziale tant'è vero che è stata ultimamente un po' corretta e secondo me in una direzione più realistica ultimamente ci sono stati molti studi che si sono interrogati sulla natura della democrazia greca su quanto fosse realmente democratica la polis su quali poleis effettivamente avessero un regime democratico autentico e si è visto soprattutto che la diffusione del teatro non riguarda soltanto città tradizionalmente democratiche riguarda anche città che hanno regimi un po' più moderati un po' più tendenti a forme meno aperte e allora la risposta che è stata data è non di negare questo ma di sfumare e di dire piuttosto e credo che sia più realistica questa ipotesi che il teatro classico si radica certo in Atene nell'Atene democratica ma si radica piuttosto nei valori della polis nei valori più generali della polis che sono condivisi spesso in senso lato da comunità fortemente democratiche come l'Atene appunto di quarto di fine quarto soprattutto ma anche da comunità che hanno regimi democratici più moderati quindi diciamo io da questo punto di vista tenderei vi dico la verità a vedere in questo la vera ragione che non inficia quello che si è detto fino adesso la diffusione semplicemente parleremo di diffusione di un modello poleico piuttosto che diffusione di un modello democratico che forse è una posizione persino un po' troppo intransigente le democrazie che Alessandro diffonde hanno dei tratti democratici sicuramente ma fino a che punto la democratizzazione fosse radicale come ad Atene è molto difficile dirlo mentre invece quello che è certo è che condividevano i valori civici che come dire la democrazia atenese aveva coltivato e diffuso gli studi degli storici hanno mostrato che in età ellenistica e questo è l'altro grande tema la città greca non muore affatto la città greca a livelli diversi naturalmente a secondo della sua importanza e del suo peso politico continua a vivere nelle sue istituzioni nei suoi contatti con i sovrani nelle sue scelte di relazione con altre comunità paradossalmente favorite da un mondo che assume adesso tratti più omogenei che in passato il modello civico viene favorito da Alessandro e dai suoi successori e non dobbiamo dimenticare che molti sovrani a partire dallo stesso Alessandro durante la sua spedizione di conquista fondarono nuove città sul modello greco come mezzo la polis per esercitare un migliore controllo sul territorio quindi città di antica fondazione e città per così dire nuove si trovarono a convivere in età ellenistica e a condividere i medesimi ideali civici e questa consapevolezza civica si traduce anche in un'immagine della polis che è anche fisica e una descrizione efficace di come deve apparire una città per essere tale è offerta da un passaggio molto famoso e molto studiato del decimo libro della Periegesi di Pausania che vi ho riportato qui lo storico vissuto nel secondo secolo dopo Cristo scrive a proposito della piccola comunità di Panopeo nella focide e dice da Cheronea ci sono 20 stadi per arrivare a Panopeo città dei focesi sempre che uno possa dare il nome di città a gente che non dispone né di edifici per i suoi magistrati né di un ginnasio né di un teatro né di una piazza e che non hanno neanche acqua che arrivi a una fontana allora il teatro che vi ho messo lì naturalmente non è quello di Panopeo è il bellissimo teatro di Segesta che si data intorno al secondo sembra adesso secondo secolo diciamo tra fine terzo inizi secondo più probabilmente secondo quindi il teatro ed è questo che ci interessa di questo passaggio che come immaginate è stato studiatissimo da tutti coloro che hanno cercato di definire che cosa sia una città greca ecco però limitandoci a quello che ci dice questo passo quello che vediamo è che una città greca agli occhi di Pausania di un greco di secondo secolo dopo deve avere questo tipo di caratteristiche e il teatro il teatro chiaramente in pietra rappresenta diciamo uno di questi elementi e il teatro perché è il luogo in cui questi valori condivisi trovano comunque la loro pubblica espressione nella riproposizione di drammi antichi radicati in quella polis di quinto secolo che gli ha creati e che ne ha dato il modello e drammi nuovi che certamente in qualche modo si saranno ispirati a quei drammi antichi ma rispondendo al gusto del loro tempo quindi riportare sulla scena in un'epoca così lontana le opere dei grandi tragici e comici attici significa ricordare quei valori alla collettività che ancora in essi vuole identificarsi certo non sarà stato così per tutte nello stesso modo le città di antica fondazione avevano per così dire quei valori profondamente radicati nel loro passato nella loro storia nella loro cultura le città però di nuova fondazione quelle volute dai re tendevano a quegli stessi valori per costruirsi una memoria civica e una tradizione che le accreditasse come città e quindi condividono tutte lo stesso gusto e lo stesso interesse per il teatro antico d'altra parte l'attenzione per il teatro in quanto edificio da parte non solo di Atene ma di molte città greche nel corso del IV secolo è un fenomeno noto e studi archeologici recenti hanno portato un nuovo contributo a questa immagine l'indagine sul terreno lo studio dei materiali messi al confronto con le testimonianze letterarie ha mostrato come proprio nel corso del IV secolo si cominciano a costruire teatri in pietra un po' ovunque nel mondo greco e in questa slide vi ho riunito le testimonianze diciamo di tutti i siti per i quali abbiamo testimonianza di teatri che furono costruiti in quarto costruiti o ricostruiti in IV secolo per quelli bordati di marrone la testimonianza viene esclusivamente dalle fonti letterarie per gli altri invece abbiamo i resti dei monumenti diciamo in pietra ecco qui avete la Grecia propria qui invece avete la Magna Grecia e la Sicilia noterete subito che non c'è il teatro di Segesta perché è posteriore quindi queste carte che io ho ricostruite in realtà non sono mie sono prese da un lavoro di Jean-Claude Moretti che le propone in uno studio recente del 2014 però le sue carte erano improponibili sotto forma di slide si sgranavano e quindi ve le ho riproposte in questa forma però si riferiscono solo al IV secolo poi l'opera continuò naturalmente i teatri ne troviamo molti anche nel corso del III ma solo per dirvi che già in IV c'è un numero veramente considerevole di teatri in pietra che vengono costruiti o ricostruiti cambiando originari teatri in legno ecco le due questo ve l'ho già detto ecco l'altro punto su cui si è insistito in passato è che con l'età ellenistica il teatro sarebbe diventato un mero spettacolo cioè un momento di pura socialità semplice divertimento ecco in realtà anche su questo aspetto la critica più recente ha operato delle correzioni significative insistendo su alcuni aspetti proprio della ritualità civica che sono ancora molto vivi in età ellenistica e il primo è la proclamazione degli onori abbiamo visto la volta scorsa leggendo il passo di Eschine della Controctesi Fonte che la proclamazione degli onori per i cittadini benemeriti continuava ancora alla fine del IV e diciamo che come Eschine cercasse di evitare in tutti i modi che De Mostre ne avesse la proclamazione della sua corona in teatro cioè nel posto dove avrebbe avuto maggiore visibilità e qui abbiamo il perfetto controcanto di De Mostene che nell'orazione sulla corona che risponde appunto all'orazione di Eschine 120 si difende in quell'occasione e in questo passaggio riassume magistralmente i valori civici che sono contenuti in questo gesto pubblico di incoronare alle Dionisie in un quel particolare momento i benefattori d'altra parte scrive per quanto riguarda la proclamazione in teatro lascio perdere il fatto che infinite volte un numero infinite di persone sono state oggetto di una proclamazione e anche io stesso lo sono stato in passato ma per gli dèi sei così stolto e ottuso Eschine che non riesci a tenere conto del fatto che la corona ha per chi ne viene insignito lo stesso valore ovunque sia bandita mentre nell'interesse di chi la conferisce farne la proclamazione in teatro tutti gli ascoltatori infatti sono spinti a offrire alla città dei benefici e lodano di più chi ha attribuito il riconoscimento cioè la città stessa piuttosto che chi ha ricevuto la corona in altre parole essere incoronati in quell'occasione è ancora un atto che offre più ritorno che non essere incoronati altrove inoltre in età ellenistica si moltiplicano le concessioni da parte della città di quel privilegio chiamato proedria di cui avevamo parlato già la volta scorsa parlando del pireo naturalmente ecco la proedria veniva concessa a cittadini benefattori e a stranieri e consentiva non solo l'accesso gratuito ma anche la possibilità per il beneficiario di sedere nelle prime file in una sezione apposita del teatro e in questo modo la città faceva conoscere a tutti la sua particolare considerazione verso quei personaggi quindi se vogliamo immaginare qui vi ho riportato i seggi del teatro di Dioniso se immaginiamo una scena di teatro ecco sedute nei posti d'onore c'erano le personalità cittadine o straniere che si trovavano a fianco a fianco con i sacerdoti principali della città questi non so se riuscite a vederlo sono seggi per sacerdoti l'ultimo è quello per i sacerdoti di Teseo quindi si trovano seduti a fianco a fianco con i sacerdoti principali della città in rappresentanza naturalmente delle divinità che servivano con gli arconti cioè i più alti rappresentanti dell'autorità politica e con i generali i più alti rappresentanti dell'autorità militare la cui proedria naturalmente non era a vita mentre lo era quella degli onorati ma era legata alla carica quindi nel momento in cui uscivano di carica sarebbero rientrati nel novero dei cittadini comuni per gli altri membri della comunità non c'erano posti assegnati e quest'uso rimane tale anche in età ellenistica mostrando come il teatro rimanga un ruolo in cui si coglievano visivamente le strutture giuridiche amministrative sociali della comunità e infine un altro aspetto su cui vale la pena di porre l'accento è che la messa in scena di opere drammatiche continua ad assumere la forma del concorso del concorso pubblico quindi rimane quell'ideale agonistico che è uno dei tratti caratterizzanti della vita civica e che resta tale diciamo nel corso del tempo addirittura fin sotto l'impero e è interessante notare che anche la ripresa di drammi classici che avevano già passato i loro concorsi a un certo punto diventa competizione quindi l'ideale agonistico della polis passa anche alla riproposizione di drammi classici quindi tutto nelle manifestazioni teatrali nel loro insieme presenta un elemento di competizione e questo spirito si ritrova proclamato nella documentazione epigrafica che non manca mai di sottolineare come questi eventi accrescano il verbo usato e su un auxain il prestigio e la gloria della città tutta e questa idea della gloria e del prestigio comunitario è qualcosa di molto sentito anche in età ellenistica e cosa ce lo dimostra? Beh, lo dimostra per esempio un caso della comunità di Iasos comunità d'Asia minore che a un certo periodo della sua storia pur trovandosi in difficoltà economiche non rinuncia a scegliere gli attori migliori per la celebrazione delle sue Dionisie quindi diciamo il momento del lagone tragico del lagone drammatico rimane comunque fondamentale un episodio fondamentale nella vita comunitaria a prescindere cioè che deve essere onorato anche in condizioni difficili e lo dimostrano anche le somme che i privati continuano a investire per opere di riparazione di edifici per la celebrazione delle feste dove le leggiamo? Le leggiamo nelle sottoscrizioni ancora una volta una fonte epigrafica naturalmente la città ogni volta che riceve soldi onora i sottoscrittori facendo delle liste e queste liste hanno indicata la somma versata e i motivi e in questi motivi spesso figurano contributi al teatro sia negli aspetti concreti la risistemazione sia negli aspetti diciamo della performance quindi sostegno per pagare gli artisti sostegno per i cori e così via l'ultimo aspetto su cui avevamo accennato e che deve essere ripreso prima di concludere si ricollega a diversi punti che abbiamo toccato e riguarda la nascita e il ruolo fondamentale assunto dagli artisti professionisti che non sono più però o non sono più solo singole persone ma che si associano in corporazioni sono le corporazioni dei cosiddetti tecniti dionisiaci gli artisti di Dioniso molti elementi ne accompagnano la nascita e ne favoriscono il successo uno di questi è senza dubbio quel processo di professionalizzazione a cui va incontro la figura dell'attore e che già Aristotele sottolineava come un cambiamento di fatto già avvenuto prima i poeti recitavano in prima persona ora prevale la figura dell'attore professionista che ha fatto delle sue doti e della sua arte un vero e proprio mestiere un altro elemento che favorisce la loro diffusione è proprio la grandissima diffusione perdonatemi la ripetizione degli spettacoli drammatici attraverso le carte abbiamo cercato di vedere che cosa accade nelle città del bacino orientale del Mediterraneo ma il quadro era limitato perché alle iniziative delle poleis dobbiamo aggiungere quelle delle corti dei sovrani anche loro attivi da questo punto di vista e attivi per tradizione perché già Alessandro nel 335 aveva già prima della spedizione aveva organizzato agoni drammatici per Zeus e per le muse e durante la spedizione aveva trovato il tempo per dare vita ad almeno è stato calcolato a una ventina fra agoni musicali e drammatici in questa carta che viene elaborata è stata elaborata da Brigitte Le Guin che è una studiosa appunto del teatro in particolare proprio dei tecniti dionisiaci ma del teatro in generale lo studio è del 2014 avete un'idea di quello che accadde durante appunto la spedizione di Alessandro spero si possa vedere insomma quanti eventi e quante manifestazioni di varia natura naturalmente non tutte teatrali ma insomma comunque connessi a spettacoli ad agoni Alessandro riuscì a organizzare e le nostre fonti ci dicono che o nel 324 a Ecbatana non è sicura se questa o nel 323 a Babilonia Alessandro avrebbe invitato qualcosa come 3.000 artisti e sappiamo che alcuni poeti tragici accompagnarono il re durante tutta la spedizione un interesse per la poesia e per le attività drammatiche che dopo la morte di Alessandro furono condivise anche dai suoi successori che favorirono la celebrazione di agoni e ne istituirono loro stessi di nuovi per celebrare le glorie delle loro famiglie o importanti vittorie militari e naturalmente tutto questo con lo sfarzo che solo una corte può permettersi l'età ellenistica dunque vede una grande proliferazione di feste all'interno di questo mondo greco ormai allargato e in questo quadro si comprende bene la nascita di questa nuova realtà delle corporazioni di artisti che risponde e che è espressione allo stesso tempo a due nuovi fattori il moltiplicarsi delle celebrazioni da una parte e il processo di professionalizzazione già in atto e che diventa sempre più definitivo del mestiere di attore allora queste corporazioni queste gilde di artisti i tecniti dionisiaci erano costruite e organizzate come vere comunità praticamente erano delle cittadine in miniatura il termine è un po' esagerato perché naturalmente non hanno competenze politiche anche se come dire nella loro gestione ci si avvicinano molto avevano la loro sede all'interno di determinate città ed erano autogovernate da autorità loro proprie che esercitavano funzioni di tipo amministrativo religioso e naturalmente finanziario queste autorità sovrintendevano al buon funzionamento della corporazione emettevano dei regolamenti dei decreti loro ma soprattutto e questo è l'aspetto chiaramente più interessante negoziavano gli accordi per gli spettacoli dei loro membri stipulando dei veri e propri contratti mandavano ambascerie e ricevevano le delegazioni delle città che chiedevano città e sovrani che avevano bisogno di artisti per le loro rappresentazioni ecco grazie a questa struttura ben organizzata e anche all'abilità dei loro amministratori queste corporazioni diventano a poco a poco gli interlocutori privilegiati per tutti coloro che dovevano organizzare agoni drammatici un'organizzazione che non dobbiamo dimenticarlo era resa molto più complessa rispetto al passato perché le celebrazioni erano più numerose e quindi era più frequente il rischio di sovrapposizione e di conseguenza di non riuscire ad accaparrarsi gli artisti migliori per le proprie feste e perché i centri che le organizzavano erano spesso lontani e quindi bisognava come dire organizzare il proprio calendario la propria agenda per riuscire a centrare gli obiettivi migliori quindi la mobilità degli artisti non era più così semplice come in passato e andava studiata con cura e le associazioni fornivano questo servizio che era naturalmente bifronte da un lato agli artisti a cui garantivano le opzioni migliori per il loro curriculum dall'altro alle città a cui garantivano gli artisti migliori per le loro performance ecco queste corporazioni fanno la loro comparsa verso l'inizio del terzo secolo e si collocano sotto la protezione del dio Dioniso ma a volte non solo per esempio in Egitto viene concessa a loro una protezione speciale anche da parte dei tolemei i faraoni locali sovrani locali e potevano aderire questo importante alle corporazioni soltanto i professionisti dotati di specifiche abilità e qualità quindi c'era una selezione per poter entrare nelle corporazioni nel Mediterraneo orientale erano operative quattro corporazioni che vedete elencate lì i tecniti che facevano base ad Atene forse è la più antica di queste compagnie i tecniti d'Egitto che avevano sede ad Alessandria fondamentalmente con ramificazioni però anche nell'isola di Cipro e che erano sotto la protezione di Dioniso e dei tolemei e sono attivi diciamo fra la metà del secondo e l'inizio del primo secolo avanti Cristo i tecniti attivi nella zona dell'istmo di Corinto che avevano ramificazioni però ad Argo a Sicione nel Peloponneso e anche in alcune città della Beozia tra cui Tebe e persino a Dione in Macedonia quindi diciamo molto più a nord e infine i tecniti attivi nella Ionia e nella regione dell'Ellesponto che veneravano Dioniso Categemon il dio condottiero e travolgente e vittorioso e l'epiteto è infatti attestato in un'iscrizione che li riguarda ecco questi ultimi avevano due sedi principali una a Teo che vedete cerchiata qui e l'altra a Pergamo sede della corte degli Attalidi e nella capitale appunto degli Attalidi è proprio qui dove come ben sapete venne realizzato l'altare di Pergamo di cui vedete qui una ricostruzione naturalmente ecco sul monumento simbolo della città in una posizione preeminente cioè vedete sul lato diciamo frontale a destra vedete sul fronte dell'avancorpo ovest per essere più precisi ecco c'era questa rappresentazione del Dio Dioniso in questa veste di condottiero vittorioso che è appunto il Dioniso Categemon il Dioniso condottiero trionfante ora le nostre fonti mostrano chiaramente che queste corporazioni prendevano il loro nome dall'area geografica in cui avevano le loro sedi quindi cambia anche questo cioè l'attore non si lega più diciamo al luogo di provenienza il luogo di provenienza degli artisti conta meno in questa fase rispetto all'affiliazione a una corporazione importante e infatti tutte le corporazioni ammettevano artisti da qualunque parte del mondo greco e allo stesso modo il loro raggio d'azione non era geograficamente limitato potevano accettare di esibirsi in tutto il mondo greco verso la fine del secondo secolo gli inizi del primo artisti di Dioniso faranno la loro comparsa anche in Magna Grecia a Reggio e in Sicilia scusate e a Siracusa in Sicilia fra i documenti che queste associazioni ci hanno lasciato anche in questo caso documentazione epigrafica troviamo naturalmente liste sul modello di quelle ateniesi che abbiamo ricordato più volte e che celebrano in questo caso le vittorie dei vari membri delle compagnie con la relativa affiliazione per quanto lacunose queste liste sono interessanti perché ci permettono di vedere le categorie di artisti che erano previste e dunque troviamo poeti tragici attori con il ruolo di protagonisti attori con il ruolo di non protagonisti suonatori di flauto maestri di coro ma dobbiamo tenere conto del fatto che questi artisti spesso avevano più di una specializzazione le corporazioni contribuirono moltissimo allo sviluppo della vita e delle attività del teatro in età ellenistica anche perché offrivano ai loro membri dei privilegi importanti che erano spesso vitali per l'esercizio della loro arte i capi o amministratori delle corporazioni contrattavano cioè si attivavano in maniera molto forte presso le città per ottenere presso di loro appunto un riconoscimento in particolare di due privilegi ai loro artisti che avrebbero lavorato presso quelle città e quelle corti sono quegli stessi privilegi che un tempo venivano concessi singolarmente ai vari artisti e che però sono vitali per la loro mobilità e quali sono la sfaleia la sicurezza personale cioè la garanzia di intangibilità nel senso non possono essere toccati e l'asulia l'inviolabilità dei beni oltre che della persona ecco grazie a questi privilegi che vengono è importante ricordarlo perché ci dà la misura del potere di queste corporazioni sono le corporazioni che li contrattano questi privilegi che sono concessi ai loro artisti to court in generale quindi il peso di queste corporazioni nel contrattare con le città grazie a questi privilegi appunto gli artisti potevano muoversi in tutta sicurezza all'interno del mondo greco un mondo greco che in questa fase è spesso agitato da conflitti ecco l'attività di queste compagnie rappresenta certo un modo diverso di concepire il teatro e in genere le rappresentazioni drammatiche un sistema più complesso e certamente più organizzato più aderente alla necessità di un mondo che ormai andava ben oltre la dimensione della polis pur essendo composto da una molteplicità se volete ancora maggiore di poleis però lo spirito civico e agonistico continua a sopravvivere proprio nella tensione delle piccole città come delle grandi corti ad assicurarsi la presenza degli attori migliori delle compagnie più quotate che possano garantire le rappresentazioni di livello più alto per concludere le trasformazioni politiche a cui va incontro il mondo greco in età ellenistica non sminuiscono spero che si sia visto l'interesse della città per l'arte drammatica che mantiene sempre la sua forma originaria di competizione e che rimane al centro delle attività civiche si manifesta anzi un'attenzione crescente verso il teatro inteso anche come edificio fisico che assume in questo scusate che assume proprio in questo periodo le caratteristiche monumentali della costruzione in pietra e che entra stabilmente in quella categoria di edifici che caratterizzano la città in quanto tale la città deve avere tra le altre cose un teatro lo abbiamo visto nel passo di Pausania un po' sprezzante relativo alla piccola Panopeo di Beozia il teatro diventa un'attività più professionale nascono e si affermano i tecniti le compagnie degli artisti a cui vengono riconosciuti determinati privilegi che riguardano la sicurezza personale che sono indispensabili per una vita che ormai è diventata una vita e un'attività sempre più itineranti i membri di queste compagnie sono ingaggiati dalle città per la qualità della loro arte che è garanzia allo stesso tempo di una qualità altissima dello spettacolo che la città vuole offrire al suo pubblico ecco a fronte di questi cambiamenti rispetto al grande teatro classico di quinto secolo abbiamo visto la critica reagito in maniera diversa possiamo dire che se fino alla seconda metà del secolo scorso si tendeva a giudicare negativamente tutto questo classificandolo come crisi e declino oggi la posizione è differente è più prudente e soprattutto è più attenta allo studio e alla comprensione di tutte le fonti che abbiamo disponibili non solo quelle letterarie più facili da reperire più facili da interpretare ma soprattutto a quelle epigrafiche e archeologiche ricchissime ma purtroppo frammentarie gli studi recenti tendono a parlare e qui posso esprimere una mia condivisione di un'evoluzione del teatro antico a valorizzarne i singoli elementi e soprattutto a comprenderli nel contesto di una realtà politica sociale e culturale che è sicuramente mutata ma che con molta cautela a mio giudizio va considerata decadente rispetto al passato piuttosto risponde a modelli culturali diversi a modelli politici mutati che mantengono diciamo al loro cuore al loro fondo i valori della polis ecco detto questo se siete d'accordo vi proporrei qualche lavoro bibliografico che può essere forse utile allora il primo è quello di Picard Cambridge di cui sicuramente avete sentito parlare è un volume vi ho proposto qui la traduzione italiana che è stata curata per la nuova Italia nel 96 riprende l'edizione più aggiornata del lavoro di Picard Cambridge quella già con gli aggiornamenti di Gould e di Lewis la traduzione è di Blasina con un'aggiunta bibliografica utile di Blasina e Narsi qual è il problema di questo testo è che in circolazione non si trova io ho provato a comprarlo ma è praticamente irreperibile però lo abbiamo in biblioteca cioè al momento non c'è perché ce l'ho io ma come dire verrà riportato quanto prima è questo come vedete vetusto ma ancora in buona forma e qui trovate questo è un testo secondo me di un interesse straordinario perché trovate tutte le fonti per ogni singola manifestazione trovate tutte le fonti che ne parlano con traduzione la traduzione italiana è stata aggiunta appunto da Narsi recentemente invece questo è più quello di il libro di Susanetti Davide Susanetti che poi è questo questo qui è stato curato diciamo è più recente l'ultima edizione è del 18 credo sia in realtà una ristampa non mi pare ci fossero aggiornamenti comunque è la prima edizione Carocci ma c'erano state delle edizioni precedenti presso altre case editrici ecco questo è molto utile perché conserva all'inizio una parte diciamo generale che riguarda appunto il teatro anche dal punto di vista proprio della organizzazione come dire civica di cui abbiamo parlato e poi naturalmente il grosso cioè la prima parte sono una quarantina di pagine grosso modo poi comincia diciamo lo spettacolo tragico e i capitoli successivi da pagina 47 in poi sono dedicati chiaramente agli aspetti più letterari però diciamo c'è una un'ampia discussione dei miti delle storie delle opere dei singoli compositori insomma secondo me è un'opera di utilità e poi vi ho segnalato in fondo naturalmente la cosa interessante è che essendo recente in fondo trovate una buona bibliografia soprattutto Volta naturalmente siccome Carocci è orientata molto al pubblico italiano pubblico universitario ma anche scolastico più in generale trovate appunto un'attenzione particolare per la bibliografia in lingua italiana poi ecco volevo segnalarvi due studi classici ma comunque molto utili diciamo i cui autori sono una garanzia di per sé cioè Vincenzo di Benedetto Enrico Medda la tragedia sulla scena e poi il saggio di Enrico Rossi che trovate in quei volumi curati da Settis i greci storia, cultura e società anche questi ecco diciamo questi risentono ancora un pochino delle visioni tradizionali ma essendo scritti come dire da persone di grandissima qualità sono sempre molto temperati molto cauti nella valutazione molto prudenti e oggettivi in questa slide invece che è l'ultima che vi propongo vi ho riunito le cose che ho utilizzato soprattutto per la parte ellenistica come vedete sono tutte opere abbastanza recenti sono i primi due in particolare quelli di Xapo e di Liapis sono volumi michellanei quindi che raccolgono sotto un titolo generale poi singoli studi mirati invece l'ultimo è quello da cui ho preso le fotografie delle liste dei fasti delle didascalie e delle liste dei vincitori ed è la summa summarum del lavoro fatto appunto da nella fattispecie per le liste del lavoro fatto da quell'equipe che si occupa di studiare i nuovi testi scusate non i nuovi testi i frammenti dei testi dei fasti e delle didascalie integrati con i nuovi con i nuovi ritrovamenti tutti questi come vi dicevo sono disponibili in formato pdf detto questo diciamo io vi ringrazio e spero insomma che sia stato utile se ci sono curiosità e domande sono qui anche se appunto non so se per i treni se no vi ringrazio ancora anche se per i treni non so se per i treni non so se per i treni non so si per i treni